Sono qui a Taranto, presso il porto Varconord. Vedete alle mie spalle il luogo della tragedia, il luogo in cui si è spezzata la gru e il povero Mimmo Massaro ha fatto la fine che tutti conosciamo. Un giovane di Fragagnano di 31 anni, l'ennesima vittima del lavoro, l'ennesimo soggetto ucciso da uno Stato assassino e da un'azienda, Arcelor Mittal, assassina. Non ci sono parole. Bisogna però, non bisogna arrendersi, bisogna cercare ora di andare a individuare i veri colpevoli e sono tanti. Intanto è gravissimo il fatto che questo stesso episodio già anni fa si era verificato e nel corso degli anni, per pura casualità, non vi sono stati altri fatti tragici. Ricordate la morte di Zaccaria anni fa e cambia la vittima, ma il copione è sempre lo stesso. Le responsabilità. Abbiamo uno Stato, un governo assassino, perché un governo che consente ad Arcelor Mittal ancora di produrre e di uccidere è un governo assassino. Assassino Di Maio, assassino Salvini, come erano assassini ieri Renzi e Gentiloni, come erano assassini, andando così a risalire nel tempo, Berlusconi e chi lo ha preceduto. Assassini. Assassini perché hanno concesso l'immunità penale. Sapete cosa significa? Che se non vi fosse stato lo scudo dell'immunità penale, oggi Arcelor Mittal risponderebbe di questo assassino. Mi rivolgo a voi, cari parlamentari ionici del territorio, soprattutto quelli del Movimento 5 Stelle. Eravate bravi a parlare, a parlare di chiusura, a parlare di lotta all'inquinamento, a parlare di Taranto Pulita. Perché non siete qui? Avete paura? Perché non siete qui? Io vi vorrei qui, davanti al luogo della tragedia, per andare a spiegare ai familiari quello che è accaduto, ai familiari della vittima, ma spiegare alla collettività, alla comunità ionica intera. Vi sono altre responsabilità, certamente. Arcelor Mittal ormai è una realtà assassina, lo si sa, perché già i suoi precedenti all'estero erano terrificanti. Un inquinamento che galoppa, e lo dicono i dati relativi allo sforamento, alle emissioni, un'azienda, uno stabilimento che sta letteralmente crollando a pezzi. E l'episodio della gru la dice lunga. Signori, a Taranto c'è stata una tromba d'aria, c'è stato un ubifragio, chiamiamolo un ubifragio. Non era certo uno tsunami, certi episodi si dovevano prevedere, ma nel corso degli anni non si è fatto nulla, già dall'epoca di Zaccaria. Le responsabilità. Mi rivolgo a Fim, Fium e Wilm. Signori cari, per quale motivo voi non chiedete la chiusura dello stabilimento? Io ho apprezzato molto l'USB che ha parlato di chiusura dello stabilimento, che ha indetto lo sciopero. Voi invece interrompete lo sciopero e non avete il coraggio di parlare, di usare la parola chiusura. Cari signori, non parlate, cari signori di Fim, Fium e Wilm, non parlate di chiusura. Spiegatelo ai familiari della vittima. Pensate che con un'industria, con un Arcelor Mittal chiusa, oggi Mimmo Massaro sarebbe in vita. Avete capito Fim, Fium e Wilm? Quando parlo di sindacati penso a Landini. Landini ha detto che ci deve essere l'immunità penale. Altrimenti come si fa a mettere Arcelor Mittal nelle condizioni di produrre e di ambientalizzare? Già Landini, spiega un po' ai familiari di Mimmo cosa significa immunità penale. Hai capito Landini? Landini, tu vuoi l'immunità penale. Con l'immunità penale Arcelor Mittal si salva da questa tragedia, allo scudo. Hai capito Landini? E Bentivogli, Bentivogli anche lui della Fim CISL. Bentivogli in molte posizioni ha cercato una via di mediazione. In molte posizioni è stato anche filo governativo, in tante posizioni lo è. Bentivogli, qui c'è un morto. Di queste cose anche, queste che hai detto sempre, ai familiari della vittima. Dille, abbi il coraggio di dirle. Questa è la realtà di Taranto, una realtà raccapricciante. Mi rivolgo anche ai colleghi, ai media, agli organi di stampa. Io sono un giornalista, io senza problemi, ho sempre detto da anni, Ilva chiusa. Arcelor Mittal chiusa, senza se e senza ma. Perché, cari colleghi, la maggior parte di voi, non tutti, usate una posizione di equilibristi? Basta con questa storia, contemperare lavoro e ambiente. È impossibile, perché nello stabilimento c'è morte e all'esterno dello stabilimento c'è morte. Allora, cari colleghi, cari amici dei media, abbiate il coraggio di parlare di chiusura. Ma si sa, non si può parlare di chiusura, perché se no poi l'editore magari può tirare le orecchie e può dire, è no, Arcelor Mittal ha fatto pagine e pagine di pubblicità sui giornali. Non va così. Io, nelle mie trasmissioni, nella mia produzione televisiva, nelle mie produzioni televisive, non ci sarà mai un minimo di pubblicità per Arcelor Mittal. Perché se no sarei un assassino, sarei complice, sarei complice anche di questa morte. Perché dare il consenso, dare l'applauso ad Arcelor Mittal, significa rendersi complici di un omicidio. Bene, che dire, l'ultimo appello al procuratore Capristo, al suo staff, c'è stato il sequestro di Afodue, non basta, va chiuso lo stabilimento. La salute viene prima di tutto, la vita viene prima del lavoro. Signori cari, mettetevi nei panni della famiglia di Mimmo e chi parla di Ilva Aperta, di Arcelor Mittal Aperto, dovrebbe per un momento immaginare di essere il papà, la mamma di Mimmo. Penso che ragionerebbero in maniera diversa.